Ragazzi, mi piace il mio culo? Aspetta, aspetta, ho un cambio di contenuto improvviso, mi è venuto in mente. Ragazzi, ho avuto quest'idea? Vorrei una bella ragazza da gocciare in live con la webcam. Sopra i 18, single. Cerchiamo qualche ragazza over 18 con cui fare, con cui, con cui creare intrattenimento. Occhionino! Smiley face? Smiley face. Ciao Paolo, sono Martina. Martina, ciao, da dove vieni? Come ti chiami? Allora, io vengo da Pozzo Coruoli. E come ti chiami, Martina? Mi chiamo Martina, gioco a League of Legends da quando avevo 12 anni. Il mio sogno è diventare una pro player e sparare un pompinazzo a Faker. Oh, ma è un sogno di chiunque. Anche io vorrei sparare un pompinazzo a Faker, se è possibile. Senti, Martina, che cosa fai di bella la vita? Allora, io adesso ho 19 anni. Spero di non essere troppo vecchio per il tuo video. Mi occupo di cosplay. Da grande vorrei fare la parrucchiera e o la truccatrice. E ho un centro estetico. Perché per quanto riguarda un centro estetico, io personalmente ho esperienze. Sì? Perché avrei bisogno di circa... Adesso, quanto offri tu, per dire? Ma io fino a 60k ci arrivo. Li ho appena rimessi su dopo circa un anno, quindi secondo me ci sta. Pensavo proprio a 60k. Ma io ogni anno che abbia finanzato è la 166 in giro per l'Italia. Se l'economia funziona, parco tu, sono io che da Twitch e porto in giro... E' un franchise. Allora, esiste un sito dove affittare la... Il giovedì ci dole. Lo faccio subito, ragazzi. Allora, ragazzi, ditemi voi chi comprare. Mamma, come suonavano. Puoi dire una cosa fortissima? Ma fa un po' di poca. Cioè? Una cosa mostruosa. Una cosa mostruosa. A me fa super impressione. È mostruosa come cosa. Ma non suonavano. Ma vai tu a scegliertele a mano come si va al mercato, non fare l'Amazon della situazione. Devi prendere in mano il melone e sentire se sei maturo dall'odore. Metaforicamente. Sì, me l'avate tutte con lo stampino. Sì, sono un challenger, sì, sono un female, ma non sono un giro di support, questo è per te. O, posso usare questa voce e essere il giro di support se volete. It's up to you, really. Whatever's fine. Hey, it's Jetheram. Hit me up if you're down to play a game or two. I'd be happy to join you. Te ne bego 15 euro per sentirti parlare per un minuto. Se mi leggi... Fammi due linee di test per la live, ti do 30 euro. Hi, my name is Mel Melo, and I look forward to having fun, uuuh. Ha fatto l'emotico la voce. Uuuuh. Nami support and Seracan support. E' colpa nostra, è colpa la società che ci fa credere che questo sia un'identità femminile. E' ovvio che una voce masquile non mi fa ragazza. Non per farvi c'è una ragazza, non per ora, non per ora, non per ora, non per ora. Ce l'abbiamo, è Ita. Perchè è Ita? Fall Guys? Questa è l'italiana, Aurora. Diamond? Miniumi? Questa era si per tre. Non fare il simp. Eh, voglio mandare un'immagine senza senso per vedere come reagisce. Eh, è un'immagine perfetta. Ce l'ho pensato. Da qua si capiranno molte cose. Ragazzi, mi fanno male gli addominali, ragazzi. Mi sto sentendo male. Mi sento malissimo. Malissimo. Saropa è il futuro. Non devo più giocare. Io sento gli altri delle persone. Hai content per ogni... Io ho content gratuito. Oh merda. Per dimminto. Per dimminto. È sempre un continuo. Uuuuh. 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 Dai, mandegli va. Ma forse non lo. No, mandegli. Mi rovini i tempi comici, mi rovini, dai. Diciamo che, veramente, pensatela come una conversazione normale. Voi siete all'esterno di tutto e quello che fa, all'esterno di tutti, ah ah ah. E uno mi risponde così. Cioè, voi, che fate? Ti ho messo all'angolino senza metterti all'angolino. Cioè, come ne esci? Perché lei vuole fare la partita, vuole comunque il suo lavoro. Trova davanti un pazzo malato che non sa tipo, con un caffè in mano che lo versa per te, e dice, questo è un cerchio di fuoco, adesso non puoi entrare. E dice, però i soldi li voglio. Però i soldi li voglio. Cioè, quanto è pazzo sto tizio? E poi, per risposta, me la rimette ancora una volta dopo. Eh, magari. Il vino mi rimette alla... Lo diceva. Stacca, stacca. Ah, ti lo muo questo che mi... Stacca tutto. Ah, andiamo? Stacca. Venita ragazzi. Grazie. Ciao. Ciao Aurora. Allora, io sono in live, ma se vuoi chiudo. Come? Sono in live, però se vuoi chiudo... No, va bene. Non ti preoccupare. Ok, va bene, è live. Dimmi tu, è una delle mie prime volte. Tranquillo, tranquillo, puoi esprimare. No, è una delle mie prime volte su Nepal. Ehm... Cosa... Cosa... Cosa che non ti è chiaro? Non lo so, la mia esperienza... In cosa consiste? Ehm... Giochi... Con me... Non... Non è tipo un servizio come tu avevi scritto di... Non è boosting... Non è coaching, è semplicemente... No, scusami, il coaching lo faccio io. Ah, ti devo pagare io a te, va bene. Se vuoi. No, no, non è obbligato. Quanto vuoi per un'ora di coaching 50 euro? In che lo sei? Io ho raggiunto Challenger 930 LP. Non c'è credere anche un po', però ok. Quindi... Ehm... Nome? Dillig? Bah, c'avevi stupido. Baologica, quando ti sei riavviato hai spaventato e fatto piangere la mia bimba siberiana che ho adottato. Le hai fatto ricordare le scene di terrore. Piange e basate che devo far. Rattattattattattattà o firma E irattattattattata? Ba, dammi stupido. E' mai questo che mi stai facendo morire dal rito. Penso sia lo stesso Alice e Aurora scusami. In realtà cambia Fabio, eh scusa Paolo. Oh simpatica Giovanna scusa Alberta. Paola scusami non lo faccio più. ho messo un problema a mario girolamo che strumento vabbè ok andiamo gli insulti beh sono cintura nera no 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 che supporti giochi lax moritana ho iniziato a giocare in zara sona sona un pochetto un pochetto lo gioco non tantissimo l'ho giocata qualche volta io gioco il latex bel champion bellissimo il fratello di lax si immagino quindi vuoi che utilizzi sono sicuramente per lax anche porco 2 ma sei un po un po sei cattiva secondo me non sono cattiva è vero che studi lingue ci sono autistico non ne sbaglio una ma sto facendo la cattiva perché so che anche tu sei cattivo io cattivo porco due alien è calmo e simpatico io sono cattivo è basso mai detto porco due alien e non urla almeno con me ovviamente ovviamente parlo per quel mentora che ha giocato ma perché avete giocato insieme a caso così su iphone non stava neanche stremmando a casissima perciò in realtà non conosco non seguo molto twitch quindi non conosco gli streamer senti stellina vado di mf va bene stellina ma stanno giocando con gente da i mondi odio mi sono nato cioè non sono non sono malissimo sono male ok ce la faremo ce la faremo io gioco tantissimo mi sforzi comunque quindi se sbaglio qualcosa te la dico attendo con calma però conoscevi alien non conoscevo alien l'ho conosciuto quando ho giocato con lui e cosa ti ha detto se posso chiedere in realtà niente abbiamo parlato di league of legends c'erano anche tipo dei suoi amici in chiamata e tipo mi ha trollato un pochetto perché parlava tipo di di una sua religione doveva tipo sacrificare cani e questa cosa mi è rimasta impressi c'è tantissimo impressa perché io giustamente non pensavo gli stesse trollando detto vabbè sarà qualche religione strana ok allora ti muovi come un ragazzo che ha fatto un incidente in moto cioè così ha preso la verità per la sorta nessuna l'arri fa faccio delle metà ma stasera che guarda che mi supero è ma porco due mesi sono svegliati insieme spaccarmi il culo questo è questo porco due erano partiti insieme anche la luce buffe quando imponeva l'inghilterra cazzo in grado di sfida di inghilterra però stelle di serve la lì al secondo te sì no 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 se dici sì stellina io un attimo non ti lascerei mai morire allora consigliarsi questa esperienza un tuo amico quella di giocare si fa no di giocare con me a si metterò è no e quanto quanto seguito ai faccio 15 mila euro al mese intendo quanti poi doverai non soldi beh io voglio essere aperto con te amo ho sfruttato come va sì un po due o ne hai avuti di peggio spero sugli pal madonna non ne devi fare che cazzo cretina di merda non parlavo con te aurora anche se tu non è che le giocava bene mamma mia ma tu mi trovi è ovvio che ti trovo anch'io no non ti arrabbiare no ti giuro sono molto nervoso adesso armando scusa paola mi dispiace sto paola o se vuoi fai fai se vuoi fare l'accuso jeans che l'ammazza non ti è già me lo sento però ti rubi il drago non è manco il drago che ti hai preso ok what ero fuori di un chilometro e mezzo sbaglio ammazza sei famosissimo la gente ti ferma per strada beh succede anche quello poi c'è anche o metà al vicino e c'è anche o meto l'uomo un mio amico o mi ha toccato non conosci davvero e challenge le vabbè e o meto le vabbè e il cazzo 20 cm no e porco 2 euro ragazzo e lascia questo poi questo ma che ti vuoi strafamoso fatti con le live con fede con lui oh io mi senti sono con una tua fan ciao ma non è assolutamente vero e dice che sono troppo un fallito per conoscierti andrea puoi provare che sei andrea kimi o metal non conosco la tua voce quindi anche se non questo va bene grazie mille andrea gentilissimo buona live ciao 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 beh anche io conosco gente famosa che c'entra e cioè dopo chiamo una persona falsa come hai fatto tu e ti faccio credere che giugia l'azzo ma che cazzo dovrei fare ma che te flammi salire accanto ma sei l'ior horse sta puttando l'azzo acqua me tirano dritto me tirano ma che carattere carattere ci sono persone disagiate persone non disagiate non è il carattere però ci sono persone che sono disturbate si e si no dai quindi sono te è una questione di carattere uno che inizia a fare e senti dove abiti e senti usciato una sera e ti piace il cazzo senti tutto quando fai le faccine sui allora ti posso fare il mio sguardo sexy ti vai aspetta però metti l'audio perché un'esperienza però mettimi l'audio aspetta aspetta ci metto l'audio oh madonna che schifo chiudo la stream aspetta ok ma ci si può parlare per queste cose tutti aspetta ci metto e ti metto 5 stelle e ti raccomando grazie gentilissimo stiva usciamo la sera no grazie si apre un locale mi apre un locale no mi spiace ma proprio proprio no ho fino a 60 capri no 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 no